Sì, sì, io continuo a fare un mio treno da quattro. Sì, 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 sì. A Giamziale se l'ha andato? Sì, 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 eh, la mano. Ma io lo so. Prego da questo Sì 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 Si, si. Ah! Hai fatto il coraggio! Ci sono dei Bongo Seus! Non ci possono usare! la campana la campana è saldata si, si si, si, si ok la campana la campana è ancora un bel dai vai andando la campana è ancora un bel quando sono grazie 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 grazie